Si riunirà a breve la nuova giunta Caruso dopo l'ufficializzazione dei due nuovi assessori Salvatore Cutraro e Vito Interlandi. Ieri il primo cittadino ha provveduto ad un mini rimpasto di giunta alla presenza del segretario comunale, i due nuovi assessori hanno prestato giuramento. A Salvatore Cutraro, vista la sua esperienza al servizio del Ministero dell'Interno come ispettore di Polizia, è stato dato incarico di occuparsi del corpo dei vigili urbani, assessorato dunque alla Polizia Municipale, ma anche ai lavori pubblici. A Vito Interlandi, infermiere del pronto soccorso del Guzzardi di Vittoria, è stata assegnata la delega a Turismo, Sport e Spettacolo, nonché il compito di rilanciare la frazione balneare di Marina di Acate ed occuparsi delle problematiche ad essa legate. Aggiunta di deleghe invece per gli assessori già in carica, ad Alice Pepi, assessore allo sviluppo economico, alle politiche giovanili e ai gemellaggi, è stata assegnata anche la delega alla cultura, anche per l'assessore Daniela Maru stessa situazione, dato che si è provveduto ad assegnarle. La delega alla pubblica istruzione, oltre a quella ai servizi sociali. Il sindaco ha tenuto per sé la delega al bilancio. Non è stato nominato nessun vice sindaco in sostituzione del dimissionario Gianni Iacono.